...e tutto il mondo, hanno fatto uno stage strepitoso, vi accogliamo con un grande applauso nuovamente qui al Caribe, signora e signore Riccardo e Silvia Ciminari! ...dietro di preparare! ...e faccio uno stage strepitoso, ma appena rientrati negli Stati Uniti, tra l'altro, pali, stanno girando tutto il mondo, eh! ...e l'applauso del Caribe! ...e l'applauso del Caribe! ...e l'applauso del Caribe! ...non commettere adulterio, questo comandamento vuole proteggere una qualità particolare dell'amore, che è la fedeltà. Il comandamento dice di non separare l'amore dalla fedeltà, di essere fedele. ...e l'applauso del Caribe vuol dire che qualsiasi cosa accada nella tua vita o nella mia, io comunque ti sarò sempre vicino. ...i sarò sempre con te, io ci sarò. ...e l'applauso del Caribe. 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 // Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stavo dato il tempo di riprendere il fiato. Dopo l'ultimo salto... Allora, questa sera volevo fare una cosa diversa. Allora, lo dico perché? Perché il dottore ci ha detto, per favore, almeno tre settimane, se vuoi riprenderti, dobbiamo fare un pochino fermi. Per un problema fisico, una subruzzazione, lei dice, no, no, tranquilli, lei senza antidolorifico, senza niente, riesce a essere impeccabile, molto più che me. E quindi l'applauso, veramente per me, e lo dico sincero, quando salgo sul palco è una certezza, è una sicurezza. Sono stanco, o sono arrabbiato, o magari qualche problemino, lei mi sorveglia tutto. Lei ha due parole, prima di salire, mi dice, dita mia, insieme, che come questa sera è stata lei e lei porta a me. Io lo ringrazio e lo faccio sempre a lei, perché è veramente top, non lo cambierei con nessuno. Oddio, se me ne date cinque, ci posso anche pensare. Beh, detto questo, era una sfiorinata così, stasera facciamo qualcosa, ok. Il grazie va a tutte le scuole presenti, penso che ci siano quasi tutte le scuole presenti, anzi, tutte le scuole più importanti del Veneto. E non solo sono qua, perciò, per noi è un onore, un piacere essere davanti a tanti artisti, professionisti, maestri del settore. Quindi, Marco, grazie, semplicemente grazie, grazie a te. Poi, Frankie, selezione musicale top, quindi vinci in occhio. Poi, signori, la musica buona non la sentite dappertutto, la musica ne sentite tanta, ma buona non dappertutto. E lui è un top che abbiamo in Italia, perciò penso che si meriti un 5 stelle come DJ. Sì, detto questo, per non piacere di avere tanti amici, colleghi, tanti siamo venuti da fuori, grazie per essere stati presenti allo stage. Per noi è sempre un'emozione, un tuff al cuore. Perciò, questo è il nostro regalo per voi. Silvia, come avete visto dopo la sfiorità, non già non vi consiglierà più. Quindi, questo è il nostro regalo per voi. Grazie di cuore. Ha cambiato uomo, sì. Sentiremo che il soldo è meglio. BOOM! Grazie di cuore, un applauso per voi, carine!